Il modulo 4 offre informazioni più approfondite su come introdurre strumenti digitali nelle esperienze turistiche, nonché alcune indicazioni su quali strumenti scegliere. La prima parte del modulo esplora codici QR, foto a 360 gradi e audio guide che possono aiutarti nella narrazione e a migliorare l'identità visiva del tuo tour urbano, così da creare una nuova esperienza turistica. La seconda parte di questo modulo ti proporrà modi per creare un tour coinvolgente attraverso gli strumenti digitali. Esplorerai l'uso di caccia al tesoro, missioni e indizi, oltre a conoscere alcuni degli strumenti digitali utili, inclusi appunto i codici QR e la realtà aumentata. Esploreremo insieme anche la creazione di sondaggi che possono arricchire le esperienze attraverso la valutazione e il miglioramento dei tuoi tour. Il modulo offre anche sei nuovi strumenti che possono essere utilizzati direttamente nella creazione di un tour urbano alternativo, tra cui codici QR, foto a 360 gradi e a 180 gradi, realtà aumentata e virtuale, podcast e audio guide. Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di implementare una varietà di soluzioni moderne e tecnologiche che aiuteranno a migliorare il tuo tour urbano digitale e a migliorare il tuo profilo di esploratore urbano.